Il Corecom Piemonte si conferma un organo vicino ai cittadini grazie alle sue molteplici attività. Avvocato Alessia Caserio, Vicepresidente Corecom Piemonte. Come Corecom Piemonte siamo molto soddisfatti di com'è andato questo 2023. Per quanto riguarda i contenziosi relativi alle controversie che sorgono tra gli utenti e gli operatori di telefonia e di pay tv, abbiamo registrato una leggera flessione delle istanze di conciliazione e di definizione, ma ciò nonostante il Corecom Piemonte è riuscito a restituire ben 1,5 milioni di euro ai cittadini piemontesi, tra rimborsi e storni. Questo è un dato assolutamente significativo che conferma ancora una volta l'ottimo lavoro che viene svolto attraverso la piattaforma ConciliaWeb, che è sicuramente uno strumento innovativo introdotto ormai da qualche anno e che ancora una volta dimostra come sia una strada assolutamente efficace e utile per tutti i cittadini rispetto magari al contenzioso ordinario che ha sicuramente dei costi e dei tempi molto più lunghi rispetto a quelli che possiamo garantire invece noi come Corecom Piemonte. In particolare nell'anno 2023 abbiamo registrato un totale di oltre 4.500 istanze di contenzioso, di cui l'8% sono domande di definizione. Molteplici sono state anche le richieste per l'attivazione delle procedure d'urgenza proprio nei casi di servizio sospeso, anche qua parliamo di oltre 470 domande presentate al Corecom, di cui poi 100 si sono risolti con dei provvedimenti temporanei, mentre fortunatamente ben 373 sono state richieste immediatamente accolte e soddisfatte con la immediata riattivazione direttamente dall'operatore. Avvocato Marco Briamonte, commissario Corecom Piemonte. Anche quest'anno il Corecom Piemonte ha svolto tantissime attività di particolare rilevanza. Possiamo sottolineare ad esempio l'accordo che è stato raggiunto con il Garante per la Privacy tramite la redazione di un protocollo di intesa che porterà a futuri sviluppi di collaborazione tra i due enti. Grande successo continuano a riscoltere i programmi dell'accesso che sono appunto promossi e selezionati dal Corecom Piemonte. È particolare anche l'attività del ROC, il registro degli operatori che appunto agiscono nel settore audiovisivo e radiofonico. Insomma le attività sono veramente tante. Visto che si avvicina a un momento particolare, quello delle elezioni che saranno nel prossimo mese di giugno, si è pensato anche e soprattutto di dar corpo, di dar forma a due va de melcum. Uno è indirizzato alle istituzioni, l'altro invece è indirizzato ai soggetti politici, a tutti gli operatori dei servizi audiovisivi e radiofonici, proprio per cercare di rendere chiare ed evidenti tutte le norme, tutte le regole relative alla par condicio. Ciò per prevenire qualsiasi tipo di equivoco nell'espressione, sia da parte degli enti istituzionali, sia da parte degli altri soggetti che ho citato, proprio per cercare di fare in modo che la massima imparzialità sia osservata da tutti questi soggetti.